Si raccusa, c'è chi evade, un 24 anni è beccato alla guida senza patente e un altro aggredisce i genitori denunciati. Nella pomeriggio del 31 dicembre, agente della volante intervenuto per una segnalazione di lita in famiglia, hanno denunciato un uomo di 30 anni per il reato di minacce grave nei confronti dei propri genitori. Inoltre, nella giornata di ieri, agente della volante hanno denunciato un giovane di 24 anni per il reato di guida senza patente e un uomo di 43 per il reato di evasione poiché sottoposto agli arresti domiciliari e assente al controllo di polizia.